Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Giochi con me, giochi per bambini. Oggi vi presento qualcosa di particolare, questa pasta intelligente che si scioglie. Si può costruire un pupazzo di neve e poi lasciarlo sciogliere. Queste sono le varie parti del pupazzo di neve, vedete? Gli occhi, naso e le braccia. E poi alla fine il nostro pupazzo di neve dovrebbe sciogliersi. Quindi apriamo subito il pacchetto e vediamo un po' che cosa contiene. Ecco qui le parti del nostro pupazzo di neve, abbiamo il naso, gli occhi e le braccia. E qui abbiamo la nostra pasta intelligente. O comunque adesso andremo a vedere se si tratta effettivamente di pasta intelligente o no. È abbastanza umidiccia, la sua consistenza è un po' umida. E adesso proviamo a lavorarla un po' tra le mani. È molto dura questa pasta. È molto molto elastica. Bisogna però lavorarla un po' tra le mani. Per riuscire a modellarla meglio. Perché è molto dura, come vi ho detto. E sembra pasta intelligente. Poi adesso potremo testarla ulteriormente per vedere se si tratta veramente di pasta intelligente. Però si riesce a strappare. Bisogna però tirare molto molto, vedete? E poi si riesce a strapparla. Quindi adesso proviamo a fare una pallina. E vediamo se rimbalza. Così per vedere se si tratta effettivamente di pasta intelligente. Ecco la nostra pallina. E proviamo. Sì, rimbalza. Sì, sembra fatta quasi di gomma un pochino. Adesso proviamo anche a annusarla. Sa un po' di colla. Come d'altronde capita insomma con queste paste intelligenti. E adesso modelliamo il nostro pupazzo di neve. Eccolo qui. Questo è il nostro pupazzo di neve. Abbiamo messo le varie parti. Ha perso un po' la forma che volevamo dargli all'inizio. Le due parti sembrano quasi un tutt'uno. Però comunque è venuto carino lo stesso. Almeno non so cosa ne pensate voi. Però dai, è abbastanza carino. E adesso vediamo un po' se il nostro pupazzo si scioglie veramente. Eccolo qui. Il nostro pupazzo di neve si sta lentamente sciogliendo. Così come ci prometteva la confezione. Eccolo qui. Dopo 15 minuti il nostro pupazzo di neve ha preso questa forma. Vedete si è proprio sciolto. Come accade nella realtà quando la neve appunto si scioglie. Si è sciolto. E abbiamo adesso questa poltiglia di neve. Sembra un po' triste il nostro pupazzo. Ha perso la sua forma originaria. E quindi questo è il risultato. Se togliamo il naso non si capisce nemmeno che si tratta di un pupazzo di neve. Eccolo qui. Quindi questa è la nostra pasta intelligente. O almeno così sembra che sia. E il nostro pupazzo di neve che appunto si scioglie se attendiamo circa 15 minuti. Se vi è piaciuto pollice in su. Condividete il video con i vostri amici. E alla prossima. Ciao! Ciao!